Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi voglio parlare di questo programma che utilizzo io per tenere sempre in aggiornamento il peso. Praticamente si chiama controlla il tuo peso. Adesso vi faccio vedere. Queste sono tutte le sue impostazioni. Ovviamente io ho già il profilo però lo vado a fare con voi in modo che vi faccio vedere come funziona. Quindi qui mi dice il nome. Magari metto un altro nome visto che già ce l'ho col nick. Poi data di nascita 21 settembre 85. Poi altezza 1,67 Sesso, femmina. Corporatura grande. Suppongo che sia grande. Poi peso iniziale. Io ho iniziato da 120 kg anche se con voi ho iniziato i video da 116. Però voglio mettere 120. Ora non ricordo precisamente quanti grammi però. 120. Data di inizio? Questa è una bella domanda perché non ricordo assolutamente. Allora no, aspettate. Ho iniziato a... Allora ho iniziato a ottobre e forse no. Allora data di inizio mi devo ricordare. L'anno scorso a maggio. Quindi maggio... Ok dicembre, novembre, ottobre. Scusate i rumori di sottofondo. Maggio 2017. Metto l'inizio proprio perché mi sa che era il 10. Comunque metto 1. Ok. Data di inizio. Peso da raggiungere 65. Va benissimo. Data programmata 23 maggio 2021. Sile di vita sedentario oppure si può scrivere, si può scegliere leggermente attivo, moderatamente attivo, molto attivo e extrattivo. Mettiamo leggermente attivo. Colore del tema. Andiamo a scegliere un colore viola. Salviamo. Andiamo sul profilo ed ecco qui i dettagli. Allora, adesso dobbiamo inserire il peso attuale per fare poi la stima di quello che noi praticamente abbiamo perso. Quindi inseriamo il peso attuale che è praticamente di 83. 83 kg. No, 82, scusate. Mi sto confondendo. 82,6 stamattina. Ok. Ok. Quindi cosa che mi dice adesso il programma? Attualmente pesa 82,6 kg. Ho iniziato con 120, con... Adesso questo non mi ricordo come si chiama BMI. Adesso non ricordo precisamente. di 43. L'obiettivo è 65. BMI di 23. Per 23 maggio 2021. Il progresso 68%. Tempo 43%. Grasso corporeo 37,8. Hai perso 37,4 kg. Ovviamente io a voi mostro sempre... vi mostro sempre il peso che ho iniziato su YouTube dove io vi dicevo che ho iniziato da 116. Ve l'ho fatto anche vedere. Quindi adesso vi ho fatto giusto una dimostrazione del peso che sto andando... che ho perso realmente perché io partivo da 120 kg e ve l'ho sempre detto. Però siccome online vi ho mostrato sempre il 116. Quindi partiamo così. Adesso è giusto per farvi vedere come funziona il programma. Quindi mi rimangono 16,9 kg. Sono in sovrappeso, quindi sono uscita dall'obesità finalmente. E questa è una cosa stupenda. Perdita giornaliera di 0,06 grammi. Dieta di 2046 calorie. Perdita media settimanale di 41 grammi. Diciamo questo è tutto quello che ci dice questo programma. È molto carino. Io vi consiglio di scaricarlo tramite l'app. Si scarica tramite l'app del cellulare. Ogni tanto lo andate ad aggiornare. Quindi inserisci peso e inserite il vostro peso. Lo salvate. È facilissima da usare. E poi è di compagnia. Quindi ogni fine settimana, per esempio, il sabato e il lunedì che faccio la pesata. Comunque aggiorno e mi dice quanto ho perso. Bene, spero che vi sia piaciuto questo breve video. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao ciao!